Proiezioni di opere e di arte sacra su alcune delle principali chiese del centro storico di Fasano. Ha preso il via in occasione della ricorrenza di San Francesco d'Assisi il progetto tra Giotto e le miniature del Medioevo, iniziativa che vuole celebrare la giornata mondiale degli animali. In particolare è possibile vedere le installazioni artistiche sulle facciate delle chiese Sant'Antonio Abate, San Francesco da Paola, Maria Santissima del Rosario, della Chiesa Madre di San Giovanni Battista e delle Chiese Rettorie di San Nicola di Bari e delle Anime Purganti. Le opere selezionate sono legate al mondo degli animali e celebrano la loro presenza nelle vicende umane del mondo sacro. Le proiezioni resteranno visibili fino al 13 febbraio 2024 e fanno parte del più ampio progetto The World of Animals, i 50 anni dello Zoo Safari di Fasano, promosso dal Comune di Fasano con il sostegno del Ministero del Turismo della Regione Puglia e dello Zoo Safari, che prevede per il periodo natalizio un allestimento unico nel suo genere, più di 50 sculture giganti di animali appositamente realizzate per illuminare il centro storico di Fasano. Il progetto è ideato dall'Associazione Euforica e realizzato da Proietta SRL con il contributo di ING. Grazie alla collaborazione con UICI Puglia e Fab Lab di Bitonto è stato possibile realizzare un percorso accessibile studiato per la disabilità visiva e la pluridisabilità, supportato da quadri tattili in rilievo delle immagini proiettate e QR code per accedere agli audioguide appositamente ideate per una maggiore accessibilità alle installazioni artistiche. Il percorso è stato finanziato dall'Assessorato al Welfare Politiche di Benessere e Pari Opportunità della Regione Puglia e dall'Orizzonte Futuri Onlus.